La mia presenza qui ha contribuito a portare un po' di telecamere oggi, diciamolo anche, e quindi cedo volentieri le risposte a tutti gli altri. Quello che abbiamo detto sulla legge elettorale è chiaro e l'abbiamo detto già in tutti questi giorni. Quello che abbiamo detto sulla legge elettorale è chiaro e l'abbiamo detto già in tutti questi giorni. Grazie. Io spero che nel colore del vestito della Maria Elena non ci sia un'allusione al rosatellum. Tu porti il verdinellum, ma lei non è rosa, questo non è rosa, è fucsia.